Buon pomeriggio, siamo qua a casa mia, è una stanza a fiasco, a fiasco bazzaglia, a squillacelito. C'ho il computer, la macchina fotografica che ho di fronte, c'ho lo smartphone, uno Xiaomi, la stampante, un Epson, cerco di passare il tempo divertendomi, l'altro ieri ho preso i fiori di Buck, uso il 39, il miscuglio di 5 fiori, il 2 e il 20, l'Aspen e il Mimulus. Sono stato sotto cura 22 anni, dal 1998, dal 99, mi sto curando ancora oggi e vivo da solo. C'ho l'autista, la macchina, che chiamo io personalmente, viene da solo sotto il mio permesso in pratica, quindi mi amministro da solo e mangio da mamma per ora, perché non ho altri mezzi per adesso. Se riesco a risolvere in breve tempo, è comunque una cosa che è altarenante, cioè nel senso, prima mamma, poi una persona, poi un'altra persona, cioè sono due persone, una persona che mi conosce, un'amica di famiglia. Poi niente, metto dei video su Facebook che in pratica mi vengono in mente a me, perché seguo la TV da quando sono piccola, da quando sono nato. e niente, il computer l'ho imparato da solo, perché in pratica mi ci sono trovato per motivi di lavoro. Era l'entusiasmo del momento, il Windows, quando è uscito il Windows 98. Ora il Windows 7 non c'è più, c'è il Windows 10. Siamo tutti con 64 bit. Continuo a fare la puntura, con un dosaggio ridotto, non faccio psicoterapia, però ho parlato di molte cose su internet, su Facebook. Niente, buon pomeriggio.